Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video Oggi faremo l'unboxing di questa Mercedes-Benz SLK350 in scala 1.43 della New Ray Allora ragazzi, prima che inizi il video mi raccomando iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto Attivate la campanellina e spolliciate, ma l'importante è che il video vi piaccia Ah, poi ragazzi, volevo anche farvi vedere nuovi aggiornamenti della mia stanza Allora, se vi ricordate bene, prima qua non c'erano le tende Ora ho messo le tende e sono anche del colore che mi piace a me, cioè il blu Poi, vi ricordate che qua c'erano anche alcuni modellini Qua c'erano dei libri, se vi ricordate bene C'erano dei libri che c'erano tipo dei modellini qua E invece qua ho aggiustato un pochetto e ho messo anche delle macchine Anche per liberare un pochetto di spazio Vabbè ragazzi, vando alle ciance E prendiamo la coppa Allora ragazzi Lo scatolo È sempre lo stesso Però qua c'è scritto License License by Daimler Non so Non so tanto Parlare di questa lì Però c'è la licenza Mercedes Allora ragazzi Lo scatolo è sempre lo stesso Ma non c'è niente da dire Ora Apriamo la macchina Qua come al solito C'è lo stesso Impaccamento Impacchettamento del veicolo Anche con la scritta Mercedes-Benz SLK E la solita vite Allora Ho il cacciavite Ora Svitiamo la vite Allora Vedo che la vite È molto semplice da togliere E quindi L'abbiamo già tocca Allora Ora Appoggiamo Ho appoggiato la macchina E qua c'è la nostra macchina Davvero molto Molto Bella Anche dettagliata Poi guardate davanti Com'è fatta bene Cioè ragazzi Bellissimo Gli specchietti Poi gli interni Gli interni Il mio telefono Sto mettendo Però Raga Qua ci sono I poggiateste Che sono fatti davvero bene Poi qua Ragazzi C'è la luce Di quando si aprono Le portiere E le cose I parasoli Ma ragazzi Sta anche a me piace un botto Poi se notate bene Là ci dovrebbero essere Anche gli altoparlanti Ma Questa è la macchina Cammina molto Cammina molto bene Poi Di dietro È anche bellissima Peccato che non hanno messo Soltanto il coso Il Lo specchietto Sarebbe stato figo Metterlo Ma Ragazzi Non ci possiamo La mettere Della New Ray Perché La New Ray L'ha fatta Talmente bene Che sta macchina Mi piace un botto Moltissimo Mi piace Vabbè ragazzi Questa macchina Ve la faccio Anche di sotto Ve la faccio vedere Perché Guardate quanto è fatta bene Guardate Eh Vabbè ragazzi Questa macchina Questa Mercedes Ve la faccio vedere Intorno Dietro E Gli interni Che sono davvero Fatti Benissimo Cioè Non ho Non ho niente Da dire Al riguardo Di questa macchina E Lo so In questi giorni Il video Lo sto facendo In compagnia Del Carreattrezzi Perché Non Devo vedere Dove Posso Metterlo Perché Devo vedere Un pochetto Però in questi giorni Sto facendo Il video Lo sto facendo In compagnia Del carreattrezzi E Vabbè ragazzi Spero In questo video Un pochetto Breve Vi sia piaciuto E ci vediamo Un prossimo video Ciao Ciao